Ciao da Apsim! Mi rendo conto che parlare di Massimiliano Allegri in termini critici susciti un po' di nervosismo, quindi ci sono tifosi della Juventus che si nervosiscono, sono molto suscettibili quando si critica Allegri e quindi inventano che le critiche, anche se e soprattutto perché ripetute, in alcuni casi e secondo qualcuno addirittura ripetitive, sfociano nell'insulto. Cioè se uno critica una persona per dei comportamenti, e qui stiamo parlando di professionisti che fanno delle scelte, quindi devono essere oggetto di critica, soggetti a critiche e devono accettarlo loro e tutti quelli che gli sono intorno, automaticamente questo clima di critiche diventa un'avversione e un'aggressione nei confronti della Juventus, come se Allegri fosse la Juventus, o come se Agnelli fosse la Juventus, come se questa dirigenza rappresentasse la Juventus nella sua storia e quindi è un clima di odio. È un clima di odio perché un tempo dovevamo difenderci solo dagli anti-Juventini, che a proposito non esistono, sono stati inventati da quegli Juventini senza argomenti, perché dovevano creare un nemico comune, così da avere consenso e poter portare avanti delle campagne mediatiche che non avevano senso. Adesso invece bisogna difendersi anche dagli Juventini. Ma poi difendersi che vuol dire? Cioè l'anti-Juventino che odia la Juve, cioè sono problemi suoi se odia la Juve. Il problema vero, casomai, è nei giornalisti e nei giornali quelli che non riescono ad essere equilibrati, ma non nel senso che criticano la Juve, nel senso che attaccano la Juve, come è successo in alcuni casi, e non attaccano allo stesso modo le altre società. Quindi non hanno una linea coerente, ma si comportano in maniera contraddittoria, e quello è un problema perché uno si affida all'informazione per avere dei contenuti rispettosi, equi, moderati, equilibrati, e non riceve nulla di tutto questo, anzi si ha manipolazione, eccetera. Però quello è un discorso molto più ampio. Ma quando parliamo di tifosi, cioè che l'interista possa odiare la Juve e attaccare la Juve, cioè dov'è il problema? Il napoletano, il milanista, d'altra parte lo Juventino tipico che cosa fa nei confronti dell'Inter? Odia l'Inter. Molti odiano il Milan, poi ci sono quelli che odiano il Napoli, la Roma, eccetera. E purtroppo il problema è proprio l'odio, ecco. Quindi il tifoso può odiare, il tifoso di Juventino può odiare l'Inter, però io non posso criticare Allegri perché altrimenti lo odio, e sto minando la serenità della tifoseria, perché sto creando delle fazioni, io sto creando delle fazioni. Non è che gli allegriani esistono, che sono veramente quasi completamente, proprio abbindolati, assuefatti totalmente dal verbo di Max. Qualunque cosa fa Allegri è perfetta, va bene, chi osa criticare, quello sì si becca gli insulti. Quindi chi non insulta ma critica non va bene perché odia, chi odia e insulta va bene perché sta odiando e insultando qualcuno che ha criticato e quindi se l'è andata a cercare. Purtroppo nella mente bacata di certe persone va così, funziona così ed è impressionante. Quindi intervengo, se mi consentite ancora una volta, su questo e ripeto, magari qualcuno si arrabbia perché siete suscettibili, perché siete sensibili a questo argomento e non si può dire neanche che Allegri è spettinato o che ha pochi capelli, e io posso dirlo tranquillamente perché ne ho meno di lui probabilmente, però dobbiamo parlare di questi atteggiamenti di Allegri, atteggiamenti di Allegri in questa fase. E dobbiamo soffermarci un attimo perché poi il mercato prenderà le sue strade, quindi ci saranno degli acquisti, ci saranno delle cessioni, la Juve prenderà delle decisioni, la dirigenza della Juve prenderà delle decisioni, farà delle scelte e poi le commenteremo di volta in volta. Ma intanto c'è un qualche cosa di sotteso, c'è un sottobosco, c'è un contesto che è a tutto quanto attorno al mercato della Juventus, quello che è stato finora, cioè quasi zero, e quello che sarà dopo. Ed è questa posizione di Allegri da padre padrone, di cui vi ho già parlato, ma che dobbiamo approfondire. Perché è una cosa, non ho ancora detto, di una cosa non abbiamo ancora parlato, e cioè di quanto sia grave questo atteggiamento di Allegri e offensione con frutti della Juventus. E quindi abbiamo questi tifosi che adorano Allegri in qualunque cosa faccia, veramente in maniera acritica, veramente in maniera acritica, e quello è un male, perché essere acritici e depensanti è un problema sociale grave, problema sociale grave, problema sociale culturale, al di là del calcio e della Juventus. Ma poi nel calcio e nella Juventus, nella tifoseria, è un ulteriore problema, perché tra l'altro una grande azienda come la Juventus si fa forza e fa leva sulla tifoseria consensiente e depensante, perché dice tanto questi qui sono come le scimmie, stanno sempre ad applaudire, quindi facciamo tutto quello che ci va, rinnoviamo De Sciglio fino al 2025, cacciamo Di Bala, cacciamo questo e quell'altro, andiamo a prendere questo giocatore, tanto questi qui applaudono comunque, e addirittura credono più loro che noi in quello che facciamo, perché secondo voi, secondo voi, Agnelli la pensa come la pensano gli Agnelliani? Allegri la pensa come la pensano gli Allegriani? Ma no, ci credono molto meno in quello che fanno, lo fanno per ben altre dinamiche, per ben altre esigenze, e quindi magari loro sono anche lì a ridere di questi tifosi che applaudono sempre, eppure fanno leva su di loro, ci basano proprio delle strategie intere di mercato, finanziarie, è chiaro, è evidente, l'abbiamo visto con il ritorno di Allegri, Agnelli come l'ha presentato? Hashtag AllegriIn è stato presentato come qualcuno di straordinario, senza che ancora avesse fatto nulla, ed è stato presentato in una maniera più becera, AllegriIn, la cartina del Minnesota, la giacca a terra, il cortomuso, così è stato ripresentato, questo perché? Perché sapevano che c'era quella sacca, quella fetta di tifoseria che avrebbe applaudito, che sarebbe stata entusiasta. E quindi abbiamo questi tifosi che appunto sostengono Allegri acriticamente, ma non si rendono conto che proprio loro che sono così sensibili e suscettibili a chiunque sfiori la Juventus, a chiunque attacchi la Juventus, stanno andando a idolatrare uno che attacca la Juventus, perché Allegri attacca la Juventus. Lui si definisce aziendalista, sbagliando, perché l'aziendalista non è quello che dice lui, l'aziendalista è proprio una persona che sa pensare, ragionare e criticare, è quello che porta l'azienda a raggiungere i suoi obiettivi, a rispettare le sue esigenze, non è quello che dice sì signore, signor sì, va tutto bene, non è lo yes man, di cui Agnelli ha sempre detto di non volersi circondare e poi puntualmente di yes man si circonda. Forse l'unico non yes man attualmente arriva bene, che è stato calato dall'alto. Nedved è un altro yes man perché lui sbatte, prende a calcio i cartelloni pubblicitari, protesta e si infuria, ma poi alla fine sta sempre lì. Non mi pare che Nedved abbia alzato i tacchi e se ne sia andato, o abbia detto o me o lui, tranne forse nel 2019, però poi è ritornato. Quindi o Nedved davvero prende e se ne va, fin tanto che resta Allegri, cosa che non ha fatto, oppure se resta con Allegri è inutile che lo ergiamo a paladino, perché paladino veramente di nulla, è un altro yes man pure lui, che accondiscende a qualunque cosa viene proposta. E quindi lo yes man non è un aziendalista, è il contrario dell'aziendalista. Ma magari Allegri fosse l'aziendalista che dice di essere, perché tra l'aziendalista yes man, che non è aziendalista, che dice sempre di sì, e l'aziendalista vero, quello che appunto critica quando c'è da criticare, fa delle osservazioni, cerca di migliorare, si impegna e va nella direzione del bene dell'azienda, c'è un altro aziendalista, anzi il contro aziendalista, l'anti aziendalista, che è la realtà di Allegri, al di là delle etichette, al di là delle raffigurazioni, cioè quello che lui sta facendo, distruggere, distruggere, invece di dire sì signore, signor sì, invece di criticare in un'ottica costruttiva, lui sta trascinando tutti quanti dalla sua parte, e quindi si devono rinnovare i giocatori che dice lui, prendere i giocatori che dice lui, gli stipendi così, gli acquisti così, le cessioni così, Di Bala l'ha cacciato lui, Kuluseschi l'ha venduto lui, ok? Quindi lui è responsabile di tutte queste situazioni che stiamo vedendo, ed è il futuro della Juventus, ma chi l'ha messo in quella posizione? Agnelli, che appunto, avendolo richiamato in pompa magna, poi ne è diventato succube, e quindi adesso abbiamo Allegri, che è presidente effettivo della Juventus, oltre direttore sportivo. Ma allora, scusatemi, nel momento in cui poi Allegri dimostra di essere lui il presidente, di potersi ergere, al di sopra della dirigenza, trascinandola e sballottandola da una parte all'altra, con queste indiscrezioni che vengono sulla stampa, secondo cui lui è insoddisfatto del mercato. Ma che differenza c'è con Antonio Conte, che disse in maniera non subdola, non subdola, perché lo disse apertamente, mettendoci le palle davanti ai microfoni, non si può andare a un ristorante da 100 euro con 10 euro in mano. Ma è mille volte meglio Antonio Conte con quella dichiarazione, mille volte meglio, perché Conte si rende antipatico, e l'aziendalista deve essere antipatico. Il vero aziendalista è antipatico, non è simpatico, non è sì signore, signor sì. Conte, che io non amo, attenzione, non amo assolutamente, mi sta antipatico, si rende antipatico, ma perché ha un obiettivo, che sicuramente è anche quello personale, l'abbiamo visto tante volte, di avere un certo tipo di mercato, anche lui si sceglie i giocatori, altrimenti frigna e si lamenta. Ma la differenza è che lui è maniacale, e dalle 8, le 7 o quello che sia di mattina, finché non finisce la giornata di allenamenti, lui sta là a martellare tutti quanti, e tutti quelli che sono stati allenati da Antonio Conte, lo esaltano, e dicono che li ha migliorati, e che non si erano mai allenati così bene in vita loro, e sono cresciuti, e volevano continuare a lavorare con lui. Tutti, praticamente tutti, la stragrande maggioranza, e parliamo di giocatori veramente valorizzati. Quindi Conte se lo può permettere di dire, non si può andare nel ristorante da 100 euro con 10 euro, se lo può permettere. E guardate che Conte è stato definito, dipinto come un nemico pubblico, ce lo hanno presentato così, quando gli fecero fare quel video messaggio, che neanche fosse stato un prigioniero di guerra, tutto rosso in volto, il 14 luglio per dire me ne vado. Ma noi non sapremo mai che cosa è successo veramente, in quell'inizio di ritiro stagione 14-15. Non lo sapremo mai, non ce l'hanno mai detto, sono passati quasi 8 anni, ma voi sapete realmente perché Conte se n'è andato. Qualcuno ha detto veramente perché Conte se n'è andato. Si dice per discrepanze sul mercato, voleva dei giocatori, ma non lo sapremo mai. E quindi non possiamo giudicare chi aveva torto e chi aveva ragione. Possiamo solo parteggiare. Io sto dalla parte di Conte, io sto dalla parte di Agnelli, io così, io colà. Ma la differenza con Allegri, mi dite qual è? Non c'è nessuna differenza, anzi Allegri è peggio, perché è più subdolo in questo atteggiamento. Perché lui in conferenza stampa dice, la rosa è ottima, mi divertirò ad allenarli, perché sono giocatori giovani. Poi ancora proseguendo nelle conferenze stampa, dice, la rosa è ottima, però ci sono giocatori inesperti, quindi ci dobbiamo lavorare. Poi ancora dice, io non ho fatto nessuna richiesta di mercato, non sono manager, se la vede la dirigenza. E poi però sappiamo che il mercato praticamente lo sta facendo lui, che avanza 2000 pretese, che frigna se non lo accontentano. E poi fa queste sparate andando a farsi fotografare con Campos a Monte Carlo, con questa esposizione mediatica nociva per la Juventus, nociva per la Juventus, e dico farsi fotografare perché non poteva non sapere che lo avrebbero fotografato, perché se tu ti devi incontrare in gran segreto con qualcuno, ti incontri al chiuso, non sulle scale di un albergo che chiunque passa può fotografare, almeno ti incontri in una sala interna, che così ti può fotografare solo chi è ospite ed è lì presente, non chiunque passi per strada praticamente, e comunque sei molto più visibile. Questa esposizione mediatica nociva per la Juventus, e allora mi dite un attimo cari allegriani, ma Allegri non sta facendo il male della Juventus, perché sta piegando il mercato alle sue esigenze, dopodiché fa anche queste sparate, fa anche queste sparate, e va bene, va bene, non è questo essere anti-juventini, non è questo andare contro la dirigenza, cioè Allegri è il primo che critica la dirigenza, ma non solo la critica, la mette in difficoltà, e voi lo difendete, e voi lo esaltate come se fosse un grande, come se fosse il rappresentante della Juventinità, se critichi Allegri non sei veramente il Juventino, ma state bene, ma vi svegliate, vi rendete conto un attimo di dove state trascinando anche voi la Juventus, e siete responsabili, ripeto, perché loro, Agnelli, chi sta nelle stanze dei bottoni, lo sa, e ci basa strategie su di voi, strategie su di voi, mentre su di noi, Juventini deviati, Juventini pensanti, Juventini critici, le strategie non si possono basare, non si possono basare, perché se siamo incontentabili, non ci avranno mai, non ci soddisferanno mai, o ci soddisferanno solo facendo qualcosa di grandioso, tipo vincere la Champions League, o sfiorarla tante volte per essere competitivi veramente in Europa, dominare il campionato, giocare bene, essere forte, tutto quello che è difficile da fare, noi applaudiamo quando succedono cose straordinarie, non ogni minima cosa, addirittura farsi andare bene il rinnovo di De Sciglio, ma cosa siamo diventati? E De Sciglio rinnova per colpa vostra, per colpa di Allegri e per colpa di quelli che applaudono, qualunque cosa faccia questa dirigenza e questo allenatore, è colpa vostra, se poi la squadra è scarsa, è colpa vostra, è colpa di quei tifosi che gli va bene tutto, perché loro fanno queste operazioni basandosi sul vostro consenso, sui vostri applausi, e quindi vogliamo essere un pochino più critici, attivare un po', accendere un po' il cervello, far muovere gli ingranaggi, e capire che Allegri sta semplicemente distruggendo? È un anti-aziendalista, altro che aziendalista come si definisce, che neanche lo sarebbe, ripeto, magari fosse l'aziendalista che dice di essere, sarebbe sempre meglio di questa roba qui, in cui dice una cosa, e poi sotto sotto ne fa un'altra, dice ma come fai a sapere che lui è insoddisfatto del mercato? Lo ha detto lui, guardate che tutti i giornali che hanno scritto Allegri non è soddisfatto del mercato e chiede uno sforzo in più, è perché Allegri gliel'ha detto, cioè proprio hanno citato testualmente, Allegri dice, quindi è stato lui a scrivere ai giornali, a dire io sono insoddisfatto del mercato, e non è meglio Antonio Conte che va davanti ai microfoni e ci mette la faccia e dice non posso andare in un ristorante da 100 euro con 10 euro, che aveva pure ragione, e infatti dopo la Juve cosa ha fatto dopo che se n'è andato Conte? Ha cominciato a fare i mercati da 100 euro, dopo che se n'è andato Conte, quasi per ripicca, quasi per ripicca, perché abbiamo un presidente che fa le cose per ripicca, abbiamo un presidente che fa le cose per ripicca, e giustamente si becca poi i fischi dello stadio, perché uno che non ha l'equilibrio di mantenersi distaccato, quando lo stesso Antonio Conte torna all'Allianz Stadium e si prendono a male parole e a insulti, come fa a rappresentare la Juventus? Di quale stile stiamo parlando? Di quale stile Juve stiamo parlando con questo presidente? Uno che fa le cose per ripicca contro i tifosi, Allegri ce l'ha sbattuto in faccia, lo ha sbattuto in faccia a me, a tutti quelli critici che non lo volevano e che volevano che venisse esonerato e che hanno esultato al momento dell'esonero, lo ha sbattuto in faccia ai tifosi, ci ha presi in giro con hashtag AllegriIn e voi tutti questi qua li difendete, applaudite, continuate ad applaudire, le cose andranno benissimo, le cose andranno benissimo, ma tanto siete già pronti, siete già pronti a trovare i nuovi alibi, le nuove scuse se le cose dovessero andare male, è colpa di questo, è colpa di quell'altro, è colpa mia, è colpa di Absim che divide la tifoseria, è colpa mia sicuramente, è colpa di Absim che odia Allegri, odia Agnese, obbia, odia, insulta, poi gli insulti me li prendo io, però quelli vanno bene, quelli li vanno bene, e voi ancora non vi svegliate, ci sono tifosi che ancora non si svegliano, vivono nel mondo delle favole, un po' vi invidio sinceramente, un po' vi invidio, da un'altra parte però, non sono, credo mai stato, di questa superficialità come tifoso, e spero di non esserlo mai, perché veramente, a parte le responsabilità che vi ho attribuito, e che confermo, è proprio un modo anche davvero troppo, troppo superficiale di vivere le cose, è veramente non soddisfacente, perché tutta la soddisfazione che voi ostentate, non è reale, non può essere reale, non potete veramente essere soddisfatti della stagione che abbiamo vissuto, non potete veramente essere soddisfatti di come gioca la Juve, non potete veramente essere soddisfatti di Venuti che fa autogol, non potete, perché non è naturale, è proprio, è qualche cosa di innaturale, è una forzatura, magari vi illudete di essere veramente soddisfatti di quello, ma è innaturale, le cose naturali per un tifoso sono di sperare nel meglio, in questo momento la Juve è lontana dal meglio, non è competitiva, ma voi continuate a dosannare questo allenatore, che sta mettendo i piedi in testa anche al presidente che lo ha rimesso lì, che lo ha fatto reinsediare, sta trascinando tutti, e sta distruggendo tutto, perché quello che vuole costruire secondo le sue esigenze, corrisponde alla distruzione della Juventus. Grazie per la vostra attenzione, buon dibattito nei commenti, ovviamente non voglio offendere nessuno con etichette, cioè semplicemente io purtroppo leggo tanti commenti, so come molti veramente la pensano, e quindi vado a definire quello che leggo, quello che vedo, non ho creato nulla, semplicemente la fotografia purtroppo di quello che c'è, comunque buon dibattito, sereno e rispettoso, like al video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi contenuti, e abbonatevi a questo canale a partire da 99 centesimi al mese, per avere tanti vantaggi, tra cui l'accesso alle chat riservate sul mio server Discord con tanto dibattito extra, e la programmazione quotidiana con orari e argomenti dei nuovi video in uscita. Ci vediamo molto presto, e sempre forza Juve!